ciao a tutti ecco un temporale c'è molto vento adesso sono qua sotto il balcone però arriva un po' l'acqua anche qui in attesa di qualche tuono ecco cali colombia sono le 6 di sera ecco l'acqua si è visto un chiarore 6 di sera del 27 aprile venerdì il sole ormai tramontato perché qui sono 6 ore di 12 ore di chiaro e 12 ore di notte di oscurità ecco 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 La pianta che riceve l'acqua, la pola che mi osserva, ola, non gliene frega, in attesa di qualche bel tuono, qualche lampo potente. Uff, uff, questo ragazzo, ha rischiarato. Lì in fondo, dove c'è quel chiaro, è la città. Mi sto bagnando tutti i piedi per fare questo video, però ho ancora un tuono. Grazie. Andiamo a 4 minuti e 40, ancora qualche secondo e poi chiudo perché mi sto bagnando tutto. Va bene, ciao a tutti, buonanotte Italia. Ciao a tutti.